Innanzitutto anche la polisportiva Santa Maria è in fiducia, c'è solo una classifica che latita, ovviamente i numeri vanno letti così come sono, ma credo che comunque la fiducia ci darà la giusta carica e la giusta determinazione per affrontare la Gelbison, quindi una squadra impegnativa, una squadra forte, costruita per vincere. Mancanze tranne Gassamae, anzi lotta, fortunatamente ad oggi ho tutta la rosa a disposizione, quindi troveremo sempre il solito Santa Maria che venderà cara la pelle e cercherà la vittoria attraverso la prestazione. Raffaele Marrone della città ti chiede una partita importante e significativa anche per lei, le domando quali sono le sue emozioni all'insegna di un match così sentito in paese? Io come la squadra viviamo la partita come tutte le partite domenicali, quindi preparata sempre con lo stesso impegno, la stessa dedizione, la stessa fiducia, qualità che devono essere necessarie per raggiungere l'obiettivo finale che è una salvezza tranquilla, quindi personalmente da professionista vivo le partite tutte allo stesso modo, è chiaro che si percepisce all'esterno un'emozione diversa, una voglia diversa, devono essere bravi i tifosi a trasformarla in carica per noi e quindi a darci una mano domani senza spazientirci e sostenerci fino al novantesimo. Alessandra Lafarina, Celentosport.it, chi è secondo lei l'uomo più pericoloso dei Rossoblu? Ma il Rossoblu in ogni settore, in ogni reparto annoverano giocatori importanti, basti pensare a Camilleri nel reparto arretrato, piuttosto che Manzo, Tazza, in avanti Manco a Croce, Mano Barone, Bubas, quindi le squadre conto sono costruite per vincere, non hanno negli undici solo giocatori importanti, ma anche coloro i quali eventualmente dovrebbero subentrare, annoverano tra di loro un curriculum di tutto rispetto. E poi non dimentichiamoci che sono allenati da un allenatore forte, che ha un passato calcistico importante, Monticciolo, quindi una società col presidente Puglisi altrettanto determinata e sempre ambiziosa, quindi vanno rispettati tutti. E' chiaro che ribadisco che la Polisporti, la mia squadra, non teme nessuno, ce la giocheremo fino alla fine.